Riley, com'è andato il camp? Dov'è l'isola della famiglia? È proprio laggiù! Oh, eccola lì! Oh, bene! Sta via tre giorni e riesce solo a dire bene! Sta via per tre giorni e dice solo bene! Sì, ha detto così, esattamente sì! Torniamo alla partita! Inside Out 2 Qualcuno mi dia un pizzico? Grazie! Dal 19 giugno al cinema Grazie a tutti!